benvenuti a questa pratica di meditazione per ritrovare l'equilibrio se vuoi e se non l'hai già fatto puoi aprire una finestra o purificare l'area in cui ti trovi con il palo santo o dell'incenso ora puoi trovare la tua posizione confortevole seduto oppure disteso oggi ci concentriamo sul creare un respiro di uguale lunghezza per inspirazione ed espirazione per ottenere un equilibrio completo è possibile che normalmente riuscite ad avere una delle due parti del respiro più lunga dell'altra ad esempio per me l'espirazione è più lunga dell'ispirazione questa pratica molto semplice apporta dei benefici importanti aiutandoti ad essere più calmo e rilassato per poter affrontare la vita quotidiana con maggiore stabilità ora puoi chiudere gli occhi prendiamo un respiro profondo insieme per rilasciare le tensioni inspira dal naso ed espira dalla bocca e contiamo fino a 5 per inspirare ed espirare inspira per 1 2 3 4 5 espira 5 4 3 2 1 inspira 5 4 3 2 1 inspira 1 2 3 4 5 espira 5 4 3 2 1 inspira 1 2 3 4 5 espira 5 4 3 2 2 1 continua contando in mente mantenendo ispirazione ed espirazione di uguale lunghezza per chi è più avanzato nella pratica può provare ad allungare fino a 6 7 o 8 sia ispirazione che espirazione usa questo tempo per vedere fin dove riesce ad arrivare ma tieni a bada l'ego piuttosto aiutati con il conteggio per essere più calmo ed equilibrato per portare dentro di te uno stato di maggiore tranquillità che ti aiuti a mantenere la mente attiva e concentrata osserva la tua mente senza giudizio dimostra compassione verso te stesso la mente cerca sempre di distrarti Puoi essere testimone di questo meccanismo e tornare a contare il respiro. Magari, se hai fatto più volte questa pratica, riesci ad allungare il tuo respiro. Continua la tua pratica per riuscire a portare maggiore equilibrio dentro di te. Grazie a tutti. In quest'ultimo minuto puoi provare ad allungare la durata dell'inspirazione e dell'espirazione. Grazie. Grazie a tutti. Rilascia il conteggio ora. Torna a respirare fluidamente. Torna al tuo respiro regolare. Torna qui molto lentamente. Quando sei pronto, unisci i palmi delle mani al centro del tuo petto, nello spazio del cuore. Facciamo un ultimo respiro insieme qui. Inspira dal naso e porta il respiro al cuore. Espira dalla bocca. Ed ora, prosegui con uno stato di maggiore equilibrio nella tua mente, nel corpo e nell'anima. senti l'equilibrio qui, a livello delle anche, della colonna vertebrale, delle spalle e della testa. E' stato un'onore per me guidarti in questa pratica di profonda meditazione. Namaste.